Tutti ai posti di combattimento. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Forze nemiche all'orizzonte! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Generatore di fumo avviato. Incrociatore nemico distrutto. Grazie a tutti. A tutte le unità richiedo fuoco di supporto. Grazie a tutti. Abbiamo distrutto una corzata nemica. Allarme incendio. Abbiamo distrutto una corzata nemica. Grazie a tutti. 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 Generatore di fumo avviato. Grazie a tutti. 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 Fornire fuoco di fuoco di supporto contro aereo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La storia è vicina. La nostra vittoria è vicina. La storia è vicina. La storia è vicina. Abbiamo distrutto un incrociatore nemico. Ricognitore in volo. Siluri dritti di prua. Rilasciata cortina fumogena. Rilasciata cortina fumogena. Rilasciata cortina fumogena. Rilasciata cortina fumogena. La nostra squadra è in vantaggio. Ricognitore in materiale. Ricognitore in volo. Ricognito in volo. Come. Grazie a tutti. Grazie a tutti.